Sì, oggi era una partita molto difficile per noi, sono entrato a aiutare la squadra ovviamente, ma eravamo molto vicini alla fine, però voglio dire complimenti a loro perché oggi hanno fatto una bellissima partita, battuta, ricezione, hanno giocato con cuore, che a noi secondo me un po' mancava. Sì, ma come ti sembra questa lube da dentro visto che oggi hai giocato? Mi sembra, cosa dire, molto forte. Sì, abbiamo provato veramente oggi, ma non era la nostra giornata ovviamente. Niente, domani è un altro giorno, andiamo avanti, la testa alta, ci aspettano due partite molto toste contro Trento e Modena, quindi dobbiamo girare la testa verso queste due partite. Grazie a tutti.